Ciao ragazzi, eccoci qua con un altro video su scopriamo le creazioni in resina. Questo è piccolino, ho fatto poche cose. Allora, iniziamo da quelle proprio più piccoline, che sono queste. Questi sono due fiocchi di neve. Eccoli qua. Qua è da limare, però sono molto carini. A quanto pare avevo colorato un po' questo qua col pigmento bianco, ma non si è ancora asciugato, infatti ho tutte le mani sporche. Vabbè, andiamo avanti. Poi ho questo cuoricino, anche qua poi è da eliminare le parti in eccesso. Il cavallo, ballo questo, è venuto proprio ballo. Qua forse è una piccola bolla, però si vede e non si vede. Poi abbiamo un croissant, quello qui. Il vestitino da principessa. Poi tutte le creazioni opache andrò a lucidarle per dargli ovviamente più colore. Ho fatto la carrozza mettendo i cuoricini. Simpatica, carina. Ovviamente non rende abbastanza, da dietro rende molto di più perché è lucida. Davanti poi quando luciderò darà molto più effetto. Ho fatto anche il castello, sempre con i cuoricini. Togliamo subito. Siccome verrà molto carino, guardate dietro, cambia totalmente. Poi c'è il guffetto. Poi ho fatto questo dolcetto. Che sono indecisa se utilizzarlo come dolcetto o come fiore perché è molto carino. Poi c'è la panna piccolina. Questa è la ciambella a cui poi colorerò il sopra. Anche se potrebbe essere anche una cosa così simpatica. E poi ho fatto anche questi fiocchetti. Vedi tiro fuori tutti. Non sono venuti molto bene perché questo ha dei buchi, anche questo, anche questo. Sì, non sono venuti proprio granchè come fiocchettini. Ma era più che altro resina di scarto. L'ho fatto questo cookie. Eccolo qua, sempre bellissimo. Anche queste poi andranno lucidate. Però dietro già fanno un bel effetto. Ecco qua. Ho creato un'altra base di cupcake. Sempre in questo colore chiaro. Ho fatto il pan di stelle. Bello. L'adoro questo stampo. Mi piace veramente tantissimo. Poi un altro biscottino. Un pretzel, mi sembra che si chiami. Eccolo qua. Poi la rosa. Poi la rosa. Carina. Da dare sicuramente una bella lucidata. Ho riprovato a fare il bambino. Utilizzando lo stampo che avevo visto buono. E utilizzando un nuovo pigmento che avevo preso della Kiko. Vorrei vedere come viene questa volta il colore della pelle. E tutto sommato è venuto carino. Voi cosa ne pensate? Non mi dispiace. E' venuto anche bene. Quindi questo stampo è super approvato. Poi ho utilizzato anche questo stampo natalizio. Ho fatto un po' di ovrini di pan di zenzero. Ecco qua. Poi li decorerò con gli occhi e la bocca. E ne ho fatti altri. Allora, questo è sempre con il colore chiaro. E questi invece li ho fatti più scuri. Diciamo più cioccolatosi. Poi abbiamo i bastoncini di zucchero. Ecco qua. Uno rosso. Ho fatti due rossi. No. Eh, si vede che mi era colato un po' di resina degli omini. Peccato. E poi ne ho fatti due bianchi. Ecco qua. Su questi farò le righe sul rosso, mentre su quelli rossi farò le righe bianche. Ultima cosa è questo stampo, questo bello stampo enorme che ho preso dalla Lidl. E ho voluto provarlo a provare a fare questo mio di pan di zenzero. Eccolo qua. Non è adorabile, ragazze. Guardate. bello, 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 bello. Poi come in quel momento lo colorerò. E sono indecisa se fare anche gli altri stampi. Perché anche come magari fargli un buchino, come decorazione natalizia, non pesa tanto. Quindi per l'albero sarebbe proprio l'ideale. Voi, secondo voi, faccio anche gli altri, vi mostro i modelli. Cioè questo mino, la ghirlanda, la campana, fiocco, il pupaccio di neve, la stella, il bastoncino di zucchero e lo stivale di Babbo Natale. Datemi un'opinione se volete che provo a farli. Fatemi sapere, insomma. Per oggi è tutto. Spero che queste creazioni, seppur piccoline, vi siano piaciute. La mia preferita è decisamente questo, insieme al biscottino pan di stelle. Un grosso bacione. Ci vediamo a presto. Ciao, ciao!